ciao e bentornati sul canale e bentornati da Eurospin perché appena arrivati adesso c'è tempo di fare il video e caricarlo e siamo pronti a vedere la quarta uscita di sei dei minions cantelini parlanti esatto fruit sound sono uno ogni 30 euro non ogni raggiungendo i 30 euro di spesa e adesso forza tutti tutti io faccio questi due tu quello qui vicino vai uno perfetto siamo pronti per aprire com'è che siamo questo allora ovviamente potete ritirare il libro libretto che c'è con tutte le ricette le informazioni eccetera eccetera e qui siamo pronti con il quarto che è in banana prima vediamo ma è bellissimo aspetta aspetta guarda quanto è bello qui ha la guancia gonfia perché sta mangiando la banana in mano e il vestito a banana ma è fatto benissimo diventa il mio preferito questo pronta e basta e basta allora bello e bello però aspetta come al solito lo facciamo sentire da vicino è un po limitato come frase no si dice veramente poco poteva dire banana banana e anche qualcosa di più cioè sentiamo questo va avanti per capite che questo invece dice basta questo anche era lunghissimo e questo più di tutti se non sbaglio e lui e o di banana vabbè niente questo è stato abbastanza rapido andiamo a rivedere tutti e quattro vicini quindi la tua classifica per il momento qual è di statua e di come voce sia come voce che come stato due classifiche diverse come voce e ok quindi prima carota che dice al secondo posto perfetto carmela al terzo posto Jerry Pomodoro e il quarto Kevin Banana ok invece come è stato indecisa si mi sa che concordo abbastanza concordo abbastanza ora quali ci mancano ci mancano Bob Fragola e del peperone chi Bob Fragola ah ok del peperone sarà l'ultimo in fondo quindi mancano ancora due settimane quindi intanto vi dico di iscrivervi al canale mentre andiamo giù a vederli bene mettere un bel like che ci fa sempre piacere condividere se avete voglia commentare schiacciate la campanella per essere aggiornati su tutti i video che usciranno soprattutto questi dei Minions in modo da essere avvisati molti saranno stati avvisati dall'uso della campanella e Sara come sempre noi vi saliamo e ci vediamo al prossimo video ciao ciao